Il piano delle attività di bonifica 2023 può prendere forma. Il Consorzio 2 Alto Valdarno ha infatti ricevuto il via libera dalla regione toscana che ha approvato la proposta messa a punto dai tecnici dell'ente. Si tratta di un piano molto articolato che investe tutte le parti del reticolo idranico che abbiamo in gestione che complessivamente sono oltre 6.500 km. E' un piano che pesa da un punto di vista economico per oltre 11 milioni di euro. Possono quindi iniziare la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua programmati nel piano delle attività di bonifica, il documento che racchiude la strategia antialluvione elaborata tenendo conto delle disposizioni regionali, dei risultati dell'attività di vigilanza svolta dal personale e consortile, delle segnalazioni avanzate dai cittadini e delle richieste formulate dai sindaci in occasione della campagna di ascolto dei territori. Il piano si compone di interventi che sono distribuiti sul reticolo, quindi sono di carattere lineare, e di interventi anche puntuali e su opere areali che abbiamo in gestione come le casse d'espansione. La manutenzione che viene fatta si compone di tutte quelle attività tese a mantenere il regolare deflusso nei corsi d'acqua e a mantenere nel tempo e in efficienza le opere idrauliche che abbiamo in gestione. Le lavorazioni saranno realizzate nel rispetto dei periodi di tutela della fauna, principalmente dunque nei mesi estivi.